Il nuovo anno scolastico ormai è alle porte e in Sicilia ci sono ancora 191.000 bambini da vaccinare per essere in regola con il nuovo decreto Lorenzin. Per questo ASP e Ufficio Scolastico Regionale hanno dato il via a controlli incrociati per richiamare i ritardatari. Misure decise durante un vertice all'Ispettorato Sanità, al quale hanno preso parte, oltre al dirigente generale Salvatore Giglione e al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica Mario Palermo, i direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, i direttori dei Servizi di Epidemiologia e Profilassi delle ASP siciliane e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Maurizio Gentile. È stato stabilito che l'Ufficio Scolastico Regionale invierà a stretto giro una circolare che invita i dirigenti scolastici degli istituti siciliani di ogni ordine e grado a inviare a tutte le ASP dell'isola entro il 5 settembre gli elenchi degli studenti iscritti in tutte le scuole, con l'indicazione di nomi e cognomi, codice fiscale, data e nascita, residenza, indirizzo degli studenti e recapiti telefonici delle famiglie. È stato un incontro costruttivo, commenta l'assessore alla salute della regione siciliana Baldo Gucciardi, al fine di facilitare le famiglie nel disbrigo delle pratiche burocratiche conseguenziali all'applicazione della legge sull'obbligo vaccinale e sensibilizzarle su uno strumento di salute come i vaccini che, come ha dimostrato la scienza negli ultimi decenni, hanno salvato milioni di vite. Chi non risulterà in regola sarà convocato per la proposta della vaccinazione. In caso di mancata presentazione per l'appuntamento, scatterà la visita domiciliare prima di procedere con le sanzioni amministrative. Sarà compito delle ASP inviare nuovamente alle scuole gli elenchi con i bambini non vaccinati. Nella sola provincia di Palermo si prevedono 100.000 vaccinazioni tra settembre e ottobre. Bisogna ricordare che con il decreto Lorenzin, approvato nel luglio scorso, vi è l'obbligo di copertura vaccinale per accedere ad asili nido, scuole materne, elementari, medie e primi due anni e le superiori. Le vaccinazioni obbligatorie sono state portate da 4 a 10. AD, antipoliomilitica, antitetanica, antidifterica e antiepatite B sono state aggiunte. Antivaricella, antipertosse, antiemofilus, influenza B, antimorbillo, antirosalia e antiparotite. Sono poi raccomandate offerte gratuitamente le vaccinazioni antimeningococcica, C e B, antipneumococcica e antirotavirus. Per effettuare i vaccini non sono necessarie 10 diversi elezioni, ma soltanto 2. Dall'obbligo di vaccinazione sono esaurati solo i bambini immunizzati per aver già contratto la malattia o quelli che si trovano in specifiche condizioni di salute. Le famiglie possono ricorrere entro il 10 settembre all'autocertificazione, che in seguito verrà verificata dall'ASP. Siamo pronti, abbiamo 61 centri in tutta la Sicilia, commenta Antonio Candela, commissario dell'ASP di Palermo, che sottolinea che il sistema provinciale delle vaccinazioni è stato potenziato per far fronte all'impennata e richieste. Studiamo di continuo per migliorare il servizio ed è per questo che accanto ai centri di vaccinazione già attivi in cui lavorano 123 persone, 3 medici e infermieri, è stato istituito anche un ambulatorio itinerante, un camper che farà tappa in diverse sedi per somministrare i vaccini. Il primo appuntamento dell'ambulatorio mobile sarà il 5 settembre a Cinisi.